Musica Siamo qua con Davide Quagliolo, capitano dello sporte Longovarda Oggi ti abbiamo visto addirittura in campo, so che tu sei un portiere, però te la cavi in tuoi due ruoli Nonostante il tempo Nonostante il tempo da lupi, abbiamo avuto un infortunio alla mano, l'abbiamo fatto in necessità virtù anche perché ci mancava il centrale Un esperimento che potremmo riproporre più Puoi dire che sei un jolly, addirittura alla fine anche in attacco Ci si provi, in attacco con risultati un po' più penosi, però vabbè Senti, la tua costanza nel tenere la concentrazione alta della squadra fino all'ultimo è incredibile Sì, diciamo che mi danno tutti i rompicoglioni dall'inizio alla fine, però visto che i cai di tensione sono uno dei nostri marchi di fabbrica Tenere alta la concentrazione secondo me è fondamentale E comunque ti dico, sei a zero contro una squadra che è una buona squadra Quindi sicuramente è un buon risultato, un bel risultato Avete di fare puntati adesso Sì, beh, soprattutto l'importante è non prendere gol per dimostrare una buona volta un po' di solidità difensiva Abbiamo lavorato tanto sui retropassaggi per cui sviluppare il gioco anche in orizzontale e non sempre solo in verticale Il nuovo portiere si è riacalata molto bene per cui direi che c'è qualche buon presupposto Tu centrale difensivo oppure c'è qualche speranza di vederti in altri ruoli più creativi? Vediamo, vediamo, io non pongo limite a nulla Perfetto, ti saluto, alla prossima, complimenti per la vittoria Ciao, ciao Davide Grazie